La magia del Natale incontra la fiaba di Pinocchio alla casa di Babbo Natale di Collodi fino all'8 gennaio. Babbo Natale e Mamma Natale incontrano i personaggi della fiaba di Carlo Collodi. Babbo Natale, la casa di Babbo Natale e il paesaggio polare che sono le novità di quest'anno in cui Babbo Natale incontra Pinocchio. Le attività sono molteplici, principalmente dedicate ai bambini e alle famiglie, oltre a Babbo Natale a cui si scriveranno le letterine e comunque resterà fino all'8 gennaio. Noi siamo aperti ininterrottamente a questo punto fino all'8 gennaio, dalle 10 la mattina alle 17. Come funziona questa macchina delle letterine? Qua siamo all'ufficio postale, prendiamo le letterine che ci portano i bambini, i ragazzi o i loro genitori e le mettiamo sul rullo che le porta direttamente al Polo Nord da Babbo Natale. Abbiamo le mascotte di Pinocchio, del gatto e della volpe, abbiamo i personaggi di Harry Potter, delle varie case di Harry Potter, gli elfi naturalmente e anche Frozen e Anna, sono due ragazze che tra l'altro, una curiosità, sono veramente sorelle che trattengono i bambini, ci giocano, facciamo attività ludico-educative e attività di gioco proprio per passare il tempo. Molte richiedono anche la partecipazione dei genitori e tutto in uno scenario fantastico all'interno del parco. Sono tutte strutture o edifici all'interno dei quali si passa da una parte all'altra, tutte al coperto e chiuso, quindi anche in caso di maltempo non ci sono problemi, l'attività resta aperta e si svolge tutto in piacevole compagnia.